C'è l'attesa per questa parita per capire a che punto è Piacenza, che cosa ha detto? Ci sono state 3 set di alto livello, penso che i primi 3 set eravamo nettamente sopra con delle percentuali che è strano trovarsi sotto 2-0 che avere il 64% in attacca complessiva, quindi è chiaro che non siamo riusciti ad incidere sicuramente anche per merito loro, col nostro servizio e loro per gran parte della prima fase della partita avevano delle percentuali di ricezione molto molto alte. Detto questo, comunque ci sono stati degli importanti passi in avanti, questa è la strada, dobbiamo riuscire anche a trasferire e quello che facciamo di molto bene l'allenamento durante la partita perché vi garantisco che in determinate circostanze ci alleniamo molto meglio di quello che riusciamo ad esprimere in partita. In differenza principale, ma tutte ricezioni mi sembrano anche nel quarto set, Seminyuk all'inizio, con questi pilota che si può scavare tra gli importanti. Eh sì, ci sono stati i due turni di battuta di Seminyuk e di Plotnitsky dove noi dobbiamo avere anche la capacità di capire che non dobbiamo sempre pretendere o voler ricevere doppio più perfetto perché con gli attaccanti che abbiamo noi possiamo tranquillamente far punto anche se la ricezione è un po' più staccata. C'è stato il turno della battuta di Plotnitsky che per metterla perfetta abbiamo subito due slash che poi dopo li paghi. Questa Perugia è ancora più avanti, probabilmente si sapevano. Ma allora Perugia è sicuramente la squadra più forte della Superlega e che penso che abbia il roster più forte di tutte le squadre di Serie A degli ultimi dieci anni. Detto questo penso che noi abbiamo dei grandi margini di miglioramento, forse loro sono già a un punto molto molto elevato, magari qualcuno mi dà, ma oggi non c'era Leone, sicuramente in qualche altro fondamentale avrebbero pagato di più.